Il Giappone è un paese straordinario, lavoriamo come Fondazione Geiger da circa quattro mesi all'allestimento e alla preparazione scientifica di questa mostra che abbiamo chiamato Kimono e Samurai perché abbiamo portato all'interno delle nostre sale i due differenti mondi che sono arrivati storicamente a noi nell'immaginario occidentale che sono quello del Samurai e quello del Kimono, le due caratteristiche principali dell'identificazione del Giappone che già Marco Polo nel XIV secolo, il primo vero viaggiatore che ci è arrivato, chiamato Zipangu, questo paese, ce lo descrive come molto ricco. Io voglio immaginare romanticamente che lo descriva ricco anche per quello che noi abbiamo voluto rappresentare in mostra, cioè per il particolare, il gesto, l'eleganza, lo spirito e tutto quello che racchiude la perfezione della cerimonia del mondo giapponese. Perché se andiamo a vedere il Samurai, sì, è rappresentato come una macchina da guerra, un combattente, però il momento della vestizione, la donna Samurai, quindi la moglie, che era la Onna Bugeisha, che si distaccava dal marito e poi doveva essere lei quella che proteggeva la casa, cioè c'è tutto un aspetto cerimoniale, elegante e se vogliamo molto spirituale alle spalle. Così nella vestizione del Kimono, che noi vediamo esteticamente, però ha tutta una parte precedente in cui la donna, prima attraverso le tecniche rappresentative, tecniche maizen, tecniche shibori, venivano fatti in maniera davvero amorevole questi Kimoni, questi Kimono. Già nel XVI secolo, XVII secolo, noi ne abbiamo di molto molto antichi. E la parte più bella è quella che rappresenta la parte precedente, cioè la vestizione del Kimono. Quindi anche questo, vedendoli appesi e vedendo la loro magnificenza, è un messaggio che comunque arriva proprio per capire quello che c'è alle spalle, quello che c'è anche nella preparazione del Kimono stesso. Il percorso espositivo si divide su due piani, come la nostra sala Piazza Guerra si vuole. Al piano terra abbiamo messo in scena tutta una ricostruzione dei giardini zen e degli interni delle case giapponesi, che racchiudono a loro volta le armature, i mempo e i kabuto, che sono le maschere e gli elmi dei samurai. Le lame, le tsuba e tutta una parte dedicata agli ukiyo-e, che sono delle opere d'arte pittoriche risalenti al XIX secolo, molto molto importanti. Al piano superiore abbiamo contestualizzato il mondo al femminile, quindi l'eleganza, il gesto, la vestizione, la cerimonialità, se vogliamo, con 12 kimono. 12 kimono suddivisi in kimono maschili, femminili, da giovane donna e da donna matura. C'è un bellissimo uchikake da sposa straordinario, due kimono da bambini, gli obi, che si erano le fasce che si arrivano per legare i kimono, e i netsuke, che sono piccoli oggetti che si arrivano per legare le sacche, visto che i kimono non hanno tasche, che venivano poste proprio fuori dal kimono stesso. E abbiamo anche al piano di sopra una esposizione sempre di ukiyo-e, queste straordinarie rappresentazioni pittoriche di maestri molto importanti. Le stampe sono state, diciamo, una ciliegina sulla torta, perché dopo che abbiamo trovato tutte queste bellissime armature provenienti dal Giappone e i bellissimi kimono, abbiamo deciso anche di ripercorrere una strada che è quella delle opere d'arte pittoriche giapponesi. Se noi ricordiamo artisti importantissimi come Okusai, Roshige, ci hanno portato attraverso i colori, attraverso la carta, attraverso le tecniche, un vero e proprio spaccato di quello che è la pittura giapponese. Noi attraverso un collezionista molto importante di Firenze, Giancarlo Mariani, siamo venuti a conoscenza di questa ricca collezione e abbiamo deciso di portarla da noi con 14 bellissime ukiyo-e. Un altro importante evento della Fondazione Geiger che punta alla diffusione della cultura e del sociale? Senz'altro, questo è il nostro obiettivo, cerchiamo di facilitare il più possibile la fruizione della cultura qui nella nostra comunità, facendo eventi come queste mostre, dove insieme alla visione di tante belle cose, belli oggetti che vengono anche da lontano, come in questo caso, si può avere anche un bellissimo catalogo per ripercorrere tutta la mostra, quindi direi un regalo a tutti. Grazie.